Vantaggio degli aspiti al 22esimo minuto Moretti, subito in gol, il football hit Roma Nord, situazione di difesa ferma per la baccia immobiliare Il taglio sul secondo palo è stato anticipato, è letto bene dal numero 9 di Mr. Loi E' il vantaggio degli ospiti Vanesi si muove sulla propria verticale, Moretti, pallone di ritorno, arriva Eusepi Potente la conclusione 4 in area per la baccia, apertura e fuori per Cardinali che si coordina al volo Non impatta neanche male Il palo è in corsa corta di Moretti che va in porta, il palo è il gol Strepitosa esecuzione di Mauro Moretti, scavalca la barriera e Ortame Dà un bacio al palo e fa 1 a 1 Di Placido gli da sottratto, lato corto dell'area, prova a mettere dietro Arriva Lanzi, carica il mancino, fa la barba al palo Poteva essere l'occasione del Natalucci Adesso ancora Eusepi perde il pallone, ci riprova Lanzi Ortame ci mette i guantoni, spara ancora viva Moretti e prova metterla sul secondo palo, interviene Eusepi Spaglia la porta, apre per Martino Ancora il numero 16, va da Eusepi Azione veloce, ripartenza fulminia del Futbolite Roma Nord Eusepi ha punito del proposto il 2 a 1 Gioca su loro, gioca su loro Moretti Ha trovato Cardinali che con il tacco segna il gol della giornata Fantastica rete Di Cardinali esulta verso la telecamera Subito il pareggio della Baccia Immobiliare Difesa e soprattutto come primo uomo che difende Altra palla messa dentro E Moretti di testa Anticipa la difesa del Futbolite Ortame resta fermo sulla linea di porta È il vantaggio della Baccia Immobiliare Controlla il pallone in mezzo a due avversari Prova a far salire i compagni, non c'è pallo sul numero 9 Quindi testa va in porta Attraversa tutto lo specchio il pallone Testa con le mani Messa in aria Cardinali prova a spizzarla sul secondo palo E c'è il gol di Albanesi È il 3 a 3 del Futbolite in pieno recupero Eusepi va in profondità Arriva adesso il triplice fischio del direttore di gara Finisce al Siriaci il posticipo di questa terza giornata È 3 a 3 Tra i Baccia Immobiliari e Futbolite Roma Nord Futbolite che in rimonta nel recupero Trova il gol del pareggio